Vincitore Sanremo 2018, perché ultimo ha dedicato il premio al fratello. Sanremo 2018 vincitore nuove proposte, il trionfatore finale è ultimo, che dedica la vittoria al fratello. Stasera nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2018 è stato proclamato il vincitore della categoria Giovanni. Ad avere la meglio al duello finale è stato il giovanissimo ultimo, un cantautore appena 22enne che con il brano Il ballo delle incertezze scritto da lui. Ha conquistato il gusto del vasto pubblico della platea del Festival, che in queste sere ha seguito con grandissimo interesse anche la gara delle nuove proposte che sono state scelte da Claudio Baglioni, direttore artistico di questa 68esima edizione della permesse musicale. Ultimo vince Sanremo 2018, la dedica speciale al fratello. Un momento decisamente molto emozionante per ultimo, che nel momento in cui è stato proclamato vincitore da Michel Unziker, Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino non ha saputo trattenere le lacrime e la commozione. Il giovane ultimo, infatti, ha rinfraziato in lacrime tutti coloro che lo hanno votato e gli hanno permesso di arrivare alla vittoria di questo Festival di Sanremo 2018, dopodiché ha voluto spendere delle parole d'affetto nei confronti di suo fratello. Sì, per che ultimo ha chiesto qualche secondo per poter parlare diretto alla telecamera e ha dedicato la vittoria al Festival di Sanremo a suo fratello, che in quel momento lo stava seguendo da casa in diretta su Rai 1, aggiungendo che adesso tocca a lui vincere la sua battaglia. Ecco i premi assegnati a Sanremo Giovani 2018. Un messaggio decisamente molto emozionante e commovente da parte di ultimo, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, che ha voluto dedicare questo suo traguardo così importante al fratello, che molto probabilmente è malato e sta affrontando una delle battaglie più difficili della sua vita. Un grande gesto da parte di ultimo, chi in queste serate ha conquistato tutto il pubblico del Festival di Sanremo, meritando assolutamente la vittoria di quest'anno. Domenica pomeriggio ultimo si esibirà in diretta a Domenica in speciale Sanremo in onda su Rai 1 dalle 14. Nel corso della quarta serata di Sanremo 2018 sono stati assegnati anche altri premi sempre per la categoria Giovani di questa edizione. Nel dettaglio abbiamo visto che è stato assegnato il premio Lucio Dalla e quello Mia Martini, i vincitori sono stati scelti dalla giuria dei giornalisti. Nel dettaglio vi diciamo che il premio Mia Martini è stato assegnato a Mirko e il cane, mentre il premio Lucio Dalla di questa edizione del Festival è stato assegnato alla giovanissima e talentuosa Alice Caglioli.